La stazione di Querceta del Soccorso Alpine Spilologico intorno alle 12 è stata attivata per soccorrono un ragazzo classe 99 caduto procurandosi un trama ad un arto inferiore durante l'attività di arrampicata sportiva. L'incidente è avvenuto nella falesia del Trittico con chiusori nel comune di Camaiore. L'attivazione da parte del tecnico di centrale operativa è arrivata alle ore 12. La figura del TCO presente durante fine settimana presso la centrale 118 Pistoia Empoli svolge la funzione di coordinamento delle varie stazioni territoriali del soccorso alpino durante gli interventi sul terreno impervio su tutto il territorio regionale. La squadra di turno reperibile con il proprio sanitario è arrivata sul luogo dell'accaduto e ha prestato le prime cure al paziente. I tecnici hanno messo in sicurezza il ragazzo e lo hanno preparato al recupero tramite l'elicottero. L'elisoccorso regionale Pegaso 3 ha provveduto al suo trasporto al nuovo ospedale a Puan di Massa.